Chiaramente quella che è stata la proposta che ha come punto principale il fatto di rimettere al centro i consumatori e quindi di cercare di ovviare un problema che obiettivamente negli ultimi mesi è stato, soprattutto nei primi mesi dello scorso anno, è stato veramente molto forte e molto sentito e puntare molto sui contratti a lungo termine può essere positivo e chiaramente anche su una maggior importanza delle rinnovabili e quindi sul far pesare maggiormente la quota di rinnovabili anche nella determinazione del costo dell'energia. Aspettiamo di capire in che modo questa cosa si sostanzierà perché chiaramente il diavolo si nasconde tra i dettagli dei testi legislativi quindi è chiaro che è ancora tutto abbastanza generico. Noi ci aspettavamo forse qualche misura più forte, qualche anche presa di posizione direttamente più forte rispetto a quella che è stata fondamentalmente un po' il disastro di questi mesi ossia la fissazione dei prezzi per i consumatori al mercato short, quindi sul mercato ma non abbiamo ancora ben capito come si sostanzierà invece la stabilità dei prezzi rispetto invece alla proposta della Commissione, però chiaramente le proposte almeno per quello che sono state definite potrebbero essere positive, c'è stato anche un accenno rispetto alle comunità energetiche che noi del Movimento 5 Stelle spingiamo da molto tempo e che effettivamente permetterebbero alle intere comunità di poter autoprodurre energia e scambiarla con i vicini e con la comunità intorno quindi sicuramente c'è molta strada da fare, la strada interpresa da questa Commissione con tutti i limiti è quella di una transizione energetica ed ambientale vera e reale nonostante tutte le resistenze che ci sono da diversi paesi, da diverse forze politiche e noi ci auguriamo invece che questa strada sia sempre più forte.